L'irruente Pietro, dopo aver assistito all'incontro di Gesù con un giovane uomo ricco, a cui il Signore aveva chiesto di vendere tutto quello che aveva, si rivolse al Cristo dicendo «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque?». La richiesta di Pietro si fonda su qualcosa che è indiscutibilmente reale. Tra i seguaci di Gesù, nella Chiesa in generale, vi è sempre stato e vi sarà sempre chi, a parità di circostanze e opportunità, darà di più e chi darà di meno. Ogni appiattimento, in questo senso, suona sempre forzato, se non ipocrita. La verità è che c'è chi dà e c'è chi non dà. E il Regno di Dio ha bisogno di chi dà. La Bibbia ne offre ampia testimonianza e senza indugi ci invita a dare. Ma che differenza fa se, amando Dio, io do o non do? Voglio dire, guardando a Pietro e al ladrone crocifisso a fianco di Gesù, fa alcuna differenza se il primo è morto martire per Cristo e l'altro è morto per i suoi errori accettando Gesù come salvatore? Sì, la fa. Al centro della teologia della sofferenza, le scritture ci insegnano che uno dei principi controintuitivi del cristianesimo è il seguente. Se rimarremo fermi nella fede in colui che salva nel mezzo della prova e della sofferenza, se serviremo il nostro Dio con passione, noi saremo ricompensati, non dimenticati. Ma vale la pena ribadire un fondamento imprescindibile. Noi siamo salvati per fede, non per opere. Paolo lo spiega bene e in svariati modi nelle sue epistole. Tuttavia la Bibbia e Gesù stesso parlano molto di opere, certo come frutto di una nuova nascita, di una fede vera. In questo, la visione di Paolo sulla salvezza solo per fede e la visione di Giacomo sulle opere della fede si completano, sono complementari, si fondano per spiegarci come la fede salvi e le opere siano imprescindibili frutto di un'anima salvata. Ma c'è di più sulle opere. Ci sono passaggi in cui la Bibbia sembra parlarci di ricompensa per le opere fatte, non intesa come salvezza dunque. E in contrasto con la salvezza, questa ricompensa va guadagnata. Per essere più chiari, mi sembra di capire che possiamo guadagnare una ricompensa da parte di Dio o possiamo perderla nel corso della nostra vita di fede. Qualsiasi sia il caso, essa comunque si godrà in cielo. Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere, afferma il Signore stesso alla fine della Bibbia, nell'Apocalisse. Così Paolo, nel mezzo di una ramanzina alla chiesa di Corinto, per le divisioni interne che stavano succedendo, se ne esce con questa potente illustrazione di futura ricompensa. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno. Ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco, dice Paolo in Prima Corinzia, il capitolo 3. Dunque, nel giorno del giudizio, le nostre opere saranno vagliate dal giusto giudice, e ancora una volta non si discute qui sulla salvezza. I cristiani, coloro che avranno creduto in Cristo come loro salvatore, non passeranno il giudizio tra morte e vita eterna, poiché la loro salvezza è solidamente poggiata sul fondamento di cui parla Paolo in questi versi, cioè Cristo. Tuttavia, passeranno per un giudizio che riguarda le opere della loro fede, Esse saranno messe in luce, dice il passo, dandoci ad intendere che il fuoco del giudizio di Cristo le metterà alla prova, le testerà, e se rimarranno dopo il fuoco, se saranno cioè oro, argento e pietre di valore, ossia, per esempio, opere fatte per esaltare Dio e non noi stessi, allora ne riceveremo la ricompensa. Se invece saranno arse come legno, fieno e paglia, ne rimarrà il nulla, solo cenere, poiché saranno state superficiali, forse frutto di esercizi religiosi vuoti, prive di amore, magari non malvagie, non cattive, ma autocelebrative, rituali legalistici e cavernosi. Quindi il giudizio dei salvati sembra riguardare l'assegnazione di diversi gradi di premio. Dio è così buono che risponde alla nostra silenziosa ma ingombrante domanda interiore, ma se mollo tutto per seguirti, se vivo una vita di amore per gli altri più che per me stesso, che cosa ne avrò io? Certo, è una domanda egoistica, ma l'uomo lo è per natura egoista. A guardarla con onestà è una domanda umanissima e la risposta sembra proprio essere autorità e onore. Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque? Chiede Pietro. E Gesù disse loro, Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele. E chiunque, chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome, ne riceverà cento volte tanto ed erediterà la vita eterna. Conferma questo il Vangelo di Matteo. Queste ricompense, dunque, non rimpiazzeranno ciò che abbiamo perduto, ma là, nella pienezza e nella gioia perfetta della salvezza, la presenza del Re, tali ricompense sovrabbonderanno ciò che avremo perduto.